A San Donato i carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Lecce, con la collaborazione dei militari della stazione di San Cesario, al termine di indagini delegate dalla Procura della Repubblica su un'attività abusiva di autoriparatore, hanno sottoposto al sequestro preventivo di urgenza una vasca interrata della dimensione di circa 60 metri quadrati, all'interno della quale era stata realizzata una discarica abusiva di rifiuti speciali costituiti da soluzioni acquose e oleose prodotte dalle operazioni di lavaggio, pulizie e sgrassaggio dei pezzi meccanici, oltre a rifiuti in ferro, legno e in plastica parzialmente interrati. Un altro deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non, costituiti da bombole di gas, carcasse di frigoriferi privi di componenti elettriche ed un ulteriore contenitore in plastica pieno di rifiuti non identificabili perché parzialmente combusti, è stato sottoposto a sequestro. Al termine del controllo, il proprietario dell'area e l'autoriparatore, che tra l'altro svolgeva abusivamente tale attività, sono stati deferiti a piede libero alla Procura della Repubblica di Lecce per aver realizzato un'attività di gestione e una discarica abusiva di rifiuti speciali. Del sequestro è stata informata anche l'autorità comunale per i provvedimenti di competenza.